Quanto sofferenza? Una gara sbloccata da un euro-goal di Mincica? Per me è una settimana di sofferenza, veramente. È stata una vittoria col cuore, penso che i ragazzi fino alla fine hanno cercato in tutti i modi di poter sbloccare la partita. Ci sono riusciti, è chiaro che l'avversario magari dopo l'espulsione al calcio di rigore, abbiamo sbagliato, con qualche ripartenza magari ci volevano mettere in difficoltà. Se sono stati 50 minuti, abbiamo giocato in metà campo, il loro portiere è stato bravo, ma anche i difensori sono sostituiti quando non c'era il portiere. È una partita che lo sento, ormai, con tutte le battaglie, è chiaro che affrontare... Noi siamo una squadra in salute e questo sicuramente fa sperare per il futuro, perché abbiamo dimostrato fino alla fine di crederci. E questa è una vittoria che vale doppia per come è maturata la fine. Adesso la sfida tra voi è il Dattilo. Io penso che è una sfida ancora a tre, ci sono 7-8 partite alla fine del campionato. Chiaramente gli sconcetti eletti lo dicono tutta su questo campionato, però non dimentichiamo che Dattilo e la San Cataldese hanno avuto una grande continuità, dei risultati importanti e oggi in questo scontro diretto è chiaro che tutti noi ci aspettavamo magari che finisse X, però Dattilo pur avendo due giocatori squalificati ha dimostrato di essere una buona squadra e ribaltando il risultato. Noi siamo qua, insomma, domenica, abbiamo una partita difficile, importante per il nostro cammino, andiamo a giocare a Mazzara con la consapevolezza che la vittoria del campionato passano anche da queste partite. Dobbiamo essere più cattivi, insomma, dentro casa siamo una squadra importante, dalle volte fuori casa abbiamo staccato, ma abbiamo staccato per tanti motivi dalle volte, non è solo il problema. Il problema dalle volte è caratteriale che penso in settimana riuscire in tutti i modi a farci capire che quella è una partita da dentro fuori, insomma. Però è giusto che oggi è una vittoria che voglio dedicare soprattutto alle persone che sono state vicine questa settimana, dalla società, i giocatori che sono stati importanti, che è una vittoria che vorrei dedicare a mia mamma, che non c'è più. Abbiamo lottato palla su palla per portare a casa quantomeno un punto, quantomeno anche un certo tipo di discorso del morale. Purtroppo all'ultimo momento il Gela è stato bravo a trovare il gol, anche perché sinceramente non si sono mai scomposti e di conseguenze mi voglio complimentare col Gela, che sono stati fino all'ultimo secondo sempre attenti e concentrati. Per quanto riguarda il Gela penso che sia la piazza, l'allenatore, la squadra, non devo essere io a scoprire che merda la Serie C come ai vecchi tempi, però è chiaro che quest'anno non si deve far sfuggire questo campionato.